Oggi iniziamo questo percorso verso il rifugio Santa Maria dei Monti venite con me vi faccio vedere come arrivare siamo in campania precisamente a scala in provincia di Salerno siamo sui quattrocento mezzo livello del mare e saliremo a poco più di mille metri Grazie a tutti Grazie a tutti 25 minuti e andiamo sul punto panoramico per vedere il golfo di Napoli e poi ritorniamo indietro Grazie a tutti Iniziamo la discesa facendo il percorso a ritroso con la nebbia che ci accompagna E siamo giunti alla conclusione dell'escursione di oggi grazie a chi ha visto questo video come sempre in viaggio con il cast e ci vediamo al prossimo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti